Il contratto di edizione, terza parte, le principali obbligazioni delle parti e i corrispettivi spettanti all'autore. Nei precedenti video di questa miniserie dedicata al contratto di edizione abbiamo introdotto il tema di questo peculiare tipo di contratto disciplinato dalla legge sul diritto d'autore e ci siamo soffermati su alcune delle sue caratteristiche salienti. Trovate i link ai video precedenti in descrizione. Tra l'altro abbiamo anche visto che si tratta di una tipologia di contratto che viene utilizzata principalmente, anche se non esclusivamente, per la pubblicazione di opere letterarie. In questo video, terzo e ultimo della serie, ci soffermeremo sulle principali obbligazioni delle parti del contratto di edizione e sulla questione dei corrispettivi spettanti all'autore dell'opera pubblicata dall'editore. La legge sul diritto d'autore prevede che l'autore dell'opera, oggetto del contratto di edizione, sia obbligato a consegnare un esemplare dell'opera nelle condizioni stabilite nel contratto e in una forma che non ne renda troppo difficile la stampa. Di regola, al giorno d'oggi, le opere sono presentate in formato digitale. Rispettare il termine per la consegna previsto dal contratto. Garantire all'editore di essere titolare di tutti i diritti d'autore che con il contratto cede all'editore e di poterne legittimamente disporre. Infine, correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso dal contratto, che di regola stabilisce un termine per svolgere questa attività. L'editore, invece, è obbligato a riprodurre l'opera in conformità all'originale e divulgarla secondo le buone norme della tecnica editoriale, rispettare il termine previsto dal contratto per la pubblicazione dell'opera, che come si vedrà per legge non può essere superiore a due anni dalla consegna del manoscritto, fissare il prezzo di copertina degli esemplari dell'opera in commercio, in tal caso l'autore può opporsi al prezzo fissato modificato dall'editore solo se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera, fornire periodicamente all'autore il rendiconto degli esemplari venduti, pagare all'autore i compensi pattuiti nel contratto. Come anticipato, la legge prevede che la pubblicazione o la riproduzione dell'opera debba aver luogo entro il termine fissato dal contratto, che non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno dell'effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera. Tale termine non si applica al caso di opere collettive. In mancanza di termini contrattuali espressi, la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fatta nell'editore. L'autore può anche rivolgersi all'autorità giudiziaria affinché fissi un termine più breve, ciò quando sia giustificato dalla natura dell'opera o da ogni altra circostanza del caso. Il patto che contenga una rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga la fissazione di un termine superiore a due anni è radicalmente nullo. Se l'opera non viene riprodotta o pubblicata nel termine concordato in quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di invocare la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni che assume di aver subito. Passando infine al tema dei corrispettivi spettanti all'autore, la legge sul diritto d'autore prevede che il compenso spettante all'autore dell'opera è costituito da una partecipazione di regola erogata all'autore annualmente, calcolata a salvo patto contrario in base a una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Poiché il compenso è calcolato in base alle vendite, l'editore è obbligato a rendere conto all'autore annualmente delle copie vendute. La legge prevede altresì la possibilità di corrispondere il compenso a stralcio, ossia in forma forfettaria, ma solo per le edizioni di dizionari, enciclopedie, antologie e altre opere di collaborazione, traduzioni, articoli di giornali o di riviste, discorsi o conferenze, opere scientifiche, lavori di cartografia, opere musicali o drammatico musicali, opere delle arti figurative. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, abbiamo un intera sezione dedicata al diritto d'autore. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.